Il Comune è tutto dell'arco, quindi non ci sono alcuni, nessuno, nessun territorio, nemmeno consigliere, può fare procedure di miglioramento, effetta legge, è chiaro, siamo in un numero di altre proposte, se le tante può confermare il supporto, se è caduto il supporto del segretario, del consigliere Russo, lei lo consiglia di segretario. No, no, è tutto quello che è quello del sindaco, perché il giorno d'anno scorso abbiamo lottato di fare l'intervento e avventurato il giudizio del superaggio davanti alla parra, con questa delimperà si riesca di doverci la sospensione di tutti i provvedimenti servizi. Si sente, è stato deciso spesso. Al momento è così, forse le cose cambieranno. A fare dei contratti, al momento, anche perché, per quanto riguarda le procedure di servizio. A fare di una tecnica, che abbiamo detto, ci consegna, tra... Il bel anjo forse, fare le transazioni, sta parlando dei detti di fuori bel anjo, non ancora riconosciuti, ma di quanto riguarda le transazioni, e a quello che si riferisce la parola dei conti. Non c'è stata l'entra, grazie al servizio. E credo che sia chiaro, anche con il supporto tecnico della sanità riformata, possiamo ottenere un punto di passare la parolazione. Chi è favorevole a portarla, appunto, posto della regione, la riconosizione del piano dei piedi, chi è favorevole a passare le mani. La parolazione del piano dei piedi, chi è favorevole a passare le mani. La stessa ragionanza del primo, chi è favorevole a passare le mani. La parolazione del piano dei piedi, chi è favorevole a passare le mani. nomina commissione giudici popolari. Allora, il tuo spio comunale chiamava la sanità di nominare due giudici popolari, due giudici comunali, che insieme a SIDA propongono la commissione che dovrà poi nominare due nominare due giudici popolari, da comporre, per quanto riguarda le cose d'assistica, e da fare le cose d'assistica, e sempre con altri. quindi, per il Consiglio di Madre, potrà votare su di due nominare due giudici. Votazione segreta, o votazione segreta, o votazione per, diciamo, il stato di mano. in modo palestra, se siete d'accordo, se siete d'accordo, dobbiamo passare a un rapporto segreto, perché non c'è bene. No, 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 due consigli. Uno di mangelanza è un'imparazione. Allora, se siete d'accordo? Se siete d'accordo? Sì. Segretario, Consiglio di proposta decide di votare come fare la nominare due mei pubri della commissione. Per quanto riguarda la zera il gruppo di mangelanza? In questo caso? Sì. Come gruppo di mangelanza? Come gruppo di mangelanza? Consigliere da prendere. E d'accordo? Sì. Grazie. 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 soprattutto nei comuni, è giusto e legittimo perché si toglie del tempo che era una famiglia in questo lavoro per dedicarlo alla comunità. E va bene, va bene che comunque un assessore prende un 800 per un ormesto, invece il 900 per un sindaco 1800, quindi per me è... no, 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 si scende proprio di 100. Quello che vi abito è che, comunque, sboggiate a meglio il vostro lavoro durante la settimana lavorativa. Non si deve capire. 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 Come si deve capire. non 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 si deve capire. Adesso. è da subito. facendo un inventario, diciamo, di quelle che sono poi. le emissioni. che ci sono. attraverso le emissioni pubbliche e private. e poi da qui, dentro una lunga di sono di dare i dias. di CO2 e di tutti i gas, diciamo, fortemente nocifichi. Quindi questo creerà addirittura nuovi posti di lavoro, perché attraverso questi finanziamenti e questi iniziative avremo bisogno di personale, che è il nuovo che consentirà di fare tutte queste innovazioni. Quindi è un approccio di liberare questa sera questa importante iniziativa. Vi ringrazio. Io penso che a questo punto non debba proprio trattarsi questa sera, perché già la delibera è stata fatta nel 30 aprile 2013 ed è stata inviata praticamente alla comunità europea mesi fa. Quindi si deve redigere entro un anno, come dice il Paese, il piano nazionale, ma è già stato deliberato nel 30 aprile 2013. Grazie. Sì, però per quanto riguarda la rendicolazione energetica del nostro comune, siccome è stato un anno, il fatto deve andare automaticamente. Siccome non è stato fatto nulla nell'anno, in cui è stato continuato il nostro impatto di 15, l'acqua è già degnata. La decorrenza è che da un anno, da una visione, da un anno verde, non sono mia parola di vita. Per noi non parliamo di più. Si è stata mandata da un momento. Sì, ma a fare che non ci sia stato, nessun senso è stato liberato. E' stato fatto il piano. E' stato fatto il piano. Il piano non è stato liberato. Per noi non è stato liberato il piano. Per noi non è stato liberato, perché non è stato liberato il piano. E' stato liberato. Nella diretta, anche la lettera di parte di sì. Questo è quello che ci hanno detto. I tecnici, che... e quindi se non li facciamo questa lettera, non inizia la lettera, non inizia la lettera. Questo è quello che ci hanno detto. E poi, se ci sono... Ma è una idea che sia. Ma ancora in questo caso, è... Grazie.